A Cinzia, Grench e Leonardo Pisani continuano il viaggio alla scoperta dei Lucani illustri che si sono affermati fuori dai confini regionali. Vediamo. Questa è l'immagine di uno dei più grandi autori americani contemporanei, John Fante, italo-americano, anzi per la verità, lucano d'origine almeno per parte di madre, vero Leonardo? Per parte di madre. Mary Capolunco, Capolunco, non si sa esattamente il cognome, non si è riuscito ancora a trovare esattamente di quale paese della Basilicata sia, probabilmente del sud della Basilicata. Su questo tra l'altro ci ha lavorato Renato Candore che negli Stati Uniti ha fatto un'ambiente ricerca non riuscendo ad arrivare sui Lucani che vivono altrove. Anche lo scrittore Arsenio Amato, un grandissimo esperto di John Fante, che l'ha chiesto a figlio d'Enne e anche la figlia, che hanno detto sono Lucani ma non sappiamo. Ma non sappiamo di dove. Ma ricercherà ancora. La storia di John Fante è un po' emblematica di quella di tantissimi emigranti italiani e soprattutto meridionali. Lui è un ragazzo che comincia a studiare all'università, poi abbandona gli studi e si dà tantissimi lavori per dare sfogo a questa sua passione per la scrittura. Per scrivere, capita come molti scrittori italo-americani, poco apprezzato in vita, riscoperto alla fine o dopo. Lui in realtà riesce a lavorare, a guadagnare molto come sceneggiatore in film ad Hollywood. Lui però scrive diversi romanzi che vengono, sì, apprezzati, ma insomma poi a un certo punto che c'è un obbligo anche in via, fin quando non c'è questo incontro straordinario con Charles Bukowski, no? Anche lui di origine europea, nato in Germania, che si innamora, lo considera il suo maestro, arrivando addirittura a minacciare la sua casa editrice, la Black Sparrow Press. Di ripubblicare. Di ripubblicare, chiede alla polvere soprattutto. Che è il suo capolavoro, diciamo. Se no Bukowski si sarebbe rifiutato di scrivere altro per la casa editrice. Ecco, chiede alla polvere, poi Arturo Bandini che è un po' il suo alter ego, no? Nei suoi romanzi, nei suoi racconti. E lui ha questo rapporto molto intenso, peraltro con la madre, questa donna appunto di origine lucana. Sì, poco sviscerato, ma raccontato bene nei racconti della Dago Red, il vino rosso degli toloamericani, Dago da accoltellatore. Arsenio Amato mi ha inviato i testi in originale, in inglese, sottoscrivendo proprio parole che sono anche nel modo di dire di una mamma meridionale, anche quando si arrabbia con i figli, con il marito, lo tuvagliolo, tante parole italiane, perché lui fondamentalmente è italiano. Poi però, insomma, recupera questa fama, anche appunto come abbiamo detto, grazie a Bukowski, al punto che nella città di Los Angeles c'è una piazza, no? Intitolata John Fante, che muore tra l'altro nel 1983, insomma. Sì, 83, non vedendo neanche l'edizione costuma di alcuni suoi capolavori. Quindi ci ha un po' recuperato anche in America questo suo prestigio. Sì, in Italia l'abbiamo conosciuto dopo la morte, soprattutto con Chiedi alla polvere, pubblicato negli anni 90. Bene, grazie come sempre a Leonardo Pisani e buona giornata.